Quanto era forte il megalodonte? Il megalodonte è stato uno dei predatori marini più grandi e spaventosi della storia. Questo gigantesco squalo preistorico ha dominato gli oceani tra circa i 14 e 4 milioni di anni fa, durante l'era dal miocene al pliocene. Il megalodonte poteva raggiungere dimensioni impressionanti, con lunghezze stimate tra i 15 e i 25 metri, o anche di più. Le sue mascelle erano incredibilmente potenti e poteva mordere con una forza che gli consentiva di schiacciare e disintegrare ossa di grandi prede come balene e altri grossi animali marini. Ti affascina il megalodonte? Fammelo sapere nei commenti e farò altri video al riguardo, e non dimenticarti di seguire il canale. Questo predatore aveva una struttura corporea agile e veloce, che lo rendeva un cacciatore altamente efficiente. Le sue abilità di nuoto e di caccia erano state adattate per conquistare l'apice della catena alimentare oceanica, rendendolo uno degli animali più spaventosi mai esistenti.